stiamo andando sul sostanzioso stiamo andando sul piatto forte della serata questa è una piuma di maiale veri con taglio particolare presso alla fine del filetto prima del collo del maiale che viene rosolato in padella molto calda scaloppato lasciato bello rosso all'interno per apprezzare meglio la carne poi servito con una salsa al curry e latte di cocco questo spezia che si accompagna con i dolci e latte di cocco quindi abbiamo un piatto che comunque internazionale a questo punto latte di cocco la carne particolare cosa ci beviamo io vado su un vino un pochino speziato un vino a ritrovare un pochino la speziatura nel vino che poi si ricerca nel piatto questo è un pino nero del Trentino Alto Adige ecco quindi restiamo in un vino italiano e merita sicuramente restiamo in un vino italiano e specialmente il pino nero che è un vino che secondo me trovano un'ottima espressione la sua massima espressione sicuramente nel Trentino Alto Adige che sta dando dei prodotti veramente veramente molto 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 buoni perfetto io ti ringrazio non voglio far raffreddare la carne perché è buona anche fredda ma sicuramente è meglio caldo bene a dopo grazie io ti ringrazio non voglio far raffreddare la carne perché vuoi due